Ciao a tutti e bentrovati. Con il video di oggi volevo fare con voi una meditazione, ma prima di iniziare faccio una premessa per condividere con voi lo spirito con cui faccio la meditazione. Vi dico subito che volendo condividere con voi l'intenzione con cui facciamo la meditazione passeranno come al solito un po' di minuti. Per chi vuole fare subito la meditazione può saltare nella parte del video dove inizio a farla. Se però state con me e seguite un po' il motivo per il quale la faccio magari verrà con uno spirito differente. Mi trovate qui in balcone con un paio di forbici perché voglio tagliare un pezzettino di aloe. Io qui ho delle piantine e fra queste c'è un aloe. Prima di fare la meditazione vi volevo mostrare il mio nespolo. Questo nespolino che mi è stato regalato da una signora che pratica il buddismo e che dovendo traslocare, a questo punto saranno sette anni fa, non sapeva dove mettere il nespolo, c'era tanto affezionata e me lo ha regalato perché doveva traslocare e non sapeva come risolvere la questione nespolo. Quindi questo nespolino è venuto ad abitare qui con me e oggi mi aiuta a dirvi queste cose che vi indico girando la telecamera. Allora, questo nespolino, cosa vi volevo dire per parlare della meditazione? Con che spirito facciamo la meditazione? Volevo farvi questo esempio che mi è venuto in mente guardando il nespolo e vi volevo anche rassicurare che sentite i rumori della strada ma fra un pochino entro in casa per cui si sentirà meglio l'audio. Allora, questo nespolo, siccome è un po' vecchiotto, ha avuto vari problemini. Come vedete qui gli parte la corteccia e praticamente una parte è proprio morta. Tutta questa parte che vedete screpolata con la corteccia che va a pezzi, immaginatevela che era tutta quanta fino in fondo alle radici. Allora, cosa ho fatto? Ho preso una foglia di aloe che per chi non l'ha presente è questa pianta qua, è una foglia medica, è una pianta medica, mentosa, una pianta favolosa. L'aloe aiuta anche per chi ha problemi, per chi deve affrontare il problema come il cancro, l'aloe è una pianta molto importante. Io oggi cosa faccio? Taglio un pezzetto di questa foglia, ne prendo una foglia, perché poi me la metto in frigo e la uso. Quindi cosa faccio? Prendo alla base, taglio alla foglia la base, così. Ora sto tenendo il cellulare per cui a questo punto vediamo che ho tagliato la foglia di aloe. Come vedete ha una polpa trasparente che è quella magica, la polpa medicamentosa e vi volevo parlare di questo nespolo per dirvi che prendendo una parte di questa polpa che adesso poggio qua perché sto tenendo il cellulare e non riesco a fare tutto insieme, ho preso un pezzetto, gli ho levato la corteccia, ma per le cose come le piante puoi anche lasciare la corteccia, però se lo devi ingerire, si consiglia di togliere questa parte verde. Ti ritrovi questa polpa gelatinosa, l'ho frullata con i mini primer e ho massaggiato come una crema, come un balsamo, ho massaggiato il tronco del nespolo. Immaginatevi che il nespolo andava a pezzi, come in questo punto qua, come in questo punto qua, andava a pezzi e si stava spaccando tutto, tutto quanto. Allora che ho fatto? ho frullato l'aloe e l'ho massaggiato, l'ho spalmato e l'ho lasciato con l'aloe che agisce sul tronco e come vedete praticamente adesso è compatto. Tutta questa parte era screpolata e si è ricompattata e rafforzata. Il nespolo non ha più avuto problemi, vedete com'è rigenerata, com'è compatta? Ecco, praticamente l'ho spalmata anche come un balsamo, come una crema, l'ho spalmata nei rami che si stavano spezzando come questo, si stavano sgretolando in questo modo e l'ho spalmato tutto lungo questi rami. Dove vedete che è compatto gli ho dato l'aloe. gli ho dato l'aloe e si è rigenerata, ricompattata e non si è più spaccata. Tutta la zona dove ci ho passato l'aloe si è ricompattata. le zone che poi hanno ceduto, che ora io le sto lasciando così perché queste sono rami morti, sono spezzate, quindi non li sto curando, andrebbero tagliati qui. Ad ogni modo tutti i rami che si stavano spaccando, qui per esempio, qui per esempio probabilmente non gliel'ho dato, qui per esempio non gliel'ho dato ed è screpolata. E praticamente non l'ho dato nelle zone che si stanno, cioè che sono morte, ecco. Allora, cosa volevo dirvi? Ah, ma perché ci parli di questa cosa, Serena? Perché, poi ora il nespolino sta facendo i frutti, che mi mangerò, sta facendo i frutti. Ecco, questa cosa dei rami secchi non ve la sto a raccontare perché riguarda le radici, perché ho cambiato il vaso e quando tagli per sbaglio delle radici sono collegate ai rami e bisogna fare molta attenzione perché a quel punto, se tagli male la radice, ti muore il ramo. Allora, ritornando all'aloe, ora vado a casa, così c'è più silenzio e mi porto dietro la foglia. Allora, perché vi ho fatto l'esempio dell'aloe? Oltre a dirvelo perché l'aloe è una pianta importante che ha molte funzioni. L'aloe è una pianta molto particolare che riesce a cicatrizzare, riesce a sfiammare, a risolvere vari problemi che riguardano sia la cute e sia le zone interne del corpo. Cosa vi volevo dire? Perché vi faccio questo esempio? Perché oggi vi volevo parlare di una meditazione e condividerla con voi e con l'occasione volevo anche aprire una parentesi su volevo anche affrontare lo spirito con cui si può fare una meditazione. cioè con quale intenzione, con quale convinzione, con quale volontà e con quale consapevolezza. Per fare una meditazione, dal mio punto di vista, affinché abbia anche una forza di azione vera e propria che non sia affine a se stessa, mi voglio rilassare, mi metto tranquillo lì e medito perché ho bisogno di rilassarmi. Cioè affinché la meditazione abbia anche una forza di trasformazione, credo che sia fondamentale che si abbiano le idee chiare e si focalizzino delle immagini e delle informazioni. Quindi quando vogliamo trasformare il nostro ologramma, quando lo vogliamo, vogliamo fare una magia, mettiamola un po' così, cioè vogliamo fare una modifica dell'ologramma, io lo chiamo così, dell'ologramma ma per capirsi insomma, più si hanno le idee chiare, più si hanno le informazioni all'interno di noi chiare e più al nostro cervello diamo delle coordinate ben precise affinché la trasformazione avvenga. Questo è uno degli aspetti che servono per trasformare le cose. Quando si trasformano le cose in modo naturale, attiviamo, dialogando con noi stessi, attiviamo delle cose, ripeto, in modo naturale, per cui per chi lo fa può diventare complicato descrivere come trasformare le cose, perché deve andare al contrario. Deve andare un attimo a dire come le ho trasformare, cosa ho fatto prima di questo, prima di questo, prima di questo, prima di questo. Ecco, fra le varie cose mi viene da dire avere le informazioni chiare sui sapori delle cose, sulle informazioni che vogliamo attivare, informazioni che si trovano a nostra disposizione e noi le vogliamo attivare. Quindi parlo dell'Aloe per farvi un esempio, perché ho il Nespolo che ci fa da esempio. Così quando voglio fare una meditazione che riguarda l'Aloe, possiamo pensare a come si è trasformato il Nespolo. Ci accorgiamo che l'Aloe è potente e riesce a cicatrizzare tutto un tronco, riesce a compattare un tronco malato e a renderlo sano e più forte di prima e a quel punto comprendiamo il significato di cosa riesce a fare l'Aloe fra le varie cose, per esempio. Quindi quando noi andiamo a meditare attivando il significato dell'Aloe, mi viene da dire che dato che noi siamo in tutte le cose, siamo anche aloe. Quindi se abbiamo le idee chiare di come si attiva l'Aloe, abbiamo le idee chiare di come ci possiamo attivare noi, alla stessa maniera dell'Aloe. Quindi noi accendiamo la funzione dell'Aloe che sta dentro di noi perché noi siamo l'Aloe sostanzialmente. Quindi più abbiamo le idee chiare, più ci viene meglio. Questo lo dico per chi potrebbe avere bisogno, a livello razionale, di dare delle coordinate ben precise con delle informazioni chiare. In realtà avviene anche questa convinzione che si attiva comunque la forza dell'Aloe, le sue capacità, le sue funzioni, le sue proprietà, si attivano perché noi abbiamo la fantasia e la creatività di riuscire ad immaginarci che tutto è possibile. Quindi come sostituzione a quello che ho appena detto, possiamo utilizzare il metodo di, possiamo attivare per chi ha fiducia, per chi ha in modo naturale la capacità di credere nell'impossibile, gli si attiva già da sola o da solo questa roba. Perché diventi come un bambino che, se al bambino gli dici una cosa, se al bambino gli dici giochiamo a carte e puoi tranquillamente sapere che carte ho, il bambino, siccome sa attivare l'atto creatore con l'atto di fiducia, crede in quello che gli dici e attiva quella roba lì e quindi vede le tue carte anche se sono coperte. Ecco, quindi oggi cosa volevo dire? Volevo fare una riflessione su come meditiamo e come possiamo attivare meglio le cose quando meditiamo. Quello che possiamo fare è, volevo anche dire questo, che a volte pensiamo di non riuscire in delle cose e non abbiamo le risorse per incoraggiarci. Cerchiamo all'esterno degli incoraggiamenti oppure non li cerchiamo e ci demorializziamo. Ecco, mi viene da dire che siccome noi stiamo in tutte le cose, noi abbiamo la capacità che sta in tutte le cose. Cosa significa? Significa che quando non riusciamo in una cosa possiamo allenarci ad attivare quella cosa nel mondo che ci riesce e riconoscere che noi siamo quella cosa nel mondo. Quindi noi riusciremo in quella cosa. Faccio un esempio. Non so guarire un problema fisico. se noi attingiamo all'informazione dell'aloe e sappiamo che noi siamo aloe noi riusciremo a guarire quella cosa perché noi abbiamo le capacità, le proprietà dell'aloe. Bisogna saperle risvegliare credendoci e allenandoci. Quindi volevo puntare l'attenzione su questa cosa che le meditazioni, le simulazioni mentali possono essere vissute in modo naturale per qualcuno di noi e possono essere allenate se non siamo abituati per altri. Per cui sono fondamentali per modificare le cose nella nostra vita. Queste cose noi le facciamo tutti i giorni solo che le facciamo come una nave che ha il timone abbandonato. Noi abbiamo un potere creativo ma questa nave va dove tira il vento. Invece bisogna sapere osservare dove sta andando la nostra intenzione. Questo lo possiamo fare in modo naturale seguendo i nostri desideri, i nostri obiettivi. Quello ci dà un po' la direzione di come attivare l'intenzione in modo naturale anche perché non è che possiamo stare tutti i giorni a meditare ma la giornata quando ci svegliamo in automatico stiamo attivando una meditazione non consapevole. Per cui se ci soffermiamo quando siamo abbattuti ci sentiamo un po' sconfitti ci diciamo questa cosa non mi riuscirà mai oggi mi viene da suggerire un po' anche questo tipo di riflessione che siccome noi siamo in tutte le cose nel mondo c'è una cosa che riesce a risolvere il nostro problema una pianta una la forza di una montagna l'energia del mare ci riflettiamo un pochino e cerchiamo cosa riesce a risolvere il nostro problema all'interno della natura per esempio ecco se noi troviamo la chiave di lettura tramite la forza di un animale la forza della natura la terra le montagne l'acqua eccetera come dicevo la tranquillità di un albero in un video che ho parlato della 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 fermezza di un albero che sa attendere sa essere solido fermo ma nello stesso tempo in una situazione di quiete nonostante che ci sia il vento per esempio fuori ecco riconoscere la la proprietà di quella cosa nella natura a nostra disposizione e riconoscere noi stessi perché noi siamo nelle cose per cui noi possiamo attingere quella stessa capacità quella stessa forza detto questo come vi avevo detto avrei passato un po' di tempo per dare un senso a questa meditazione per condividere con voi il modo con cui la sto con cui la faccio le meditazioni e a questo punto abbiamo parlato dell'aloe e qui con noi avvicino un po' la telecamera allora qui oggi tengo la telecamera un po' distante perché ho il cellulare attaccato alla spina e per ora ho una una spina la dietro e quindi più di così per ora non lo posso attaccare se no mi si spegne il cellulare allora cosa cosa ho portato qua oggi praticamente questa è l'aloe che vi dicevo che abbiamo tagliato prima che magari in un video facciamo insieme la pulizia dell'aloe e poi ci prepariamo una crema una gelatina praticamente basta ripulire la foglia levare le zone dentate e frullarlo a questo punto può diventare una una gelatina medicamentosa molto molto potente molto importante si può usare anche per i capelli per la per la forfora per il cuoio capelluto per le infiammazioni al piede per un sacco di cose si può frullare prendere un cucchiaino al giorno anche due per disinfettare e sfiammare le zone dello stomaco dell'intestino eccetera comunque i tessuti interni del corpo si può usare in tanti modi le si può ingerire e usare come creme per cui è molto potente e quello che vi volevo dire è che si potrebbe fare una meditazione sull'aloe attivando le sue proprietà sia a livello fisico usandola e sia a livello di meditazione volevo farmi l'esempio delle rose che a me piacciono tantissimo uno può fare anche la meditazione sulle rose per attivare le proprietà delle rose che sono potentissime a mio avviso la rosa è una cosa veramente incredibile però con oggi con oggi voglio fare con voi la meditazione sull'argilla la meditazione sull'argilla inventata da me ovviamente perché le meditazioni che vi posto sono tutte inventate la chiamo la meditazione sull'argilla perché pensiamo ad usare l'argilla come modo per ripulirci dall'inquinamento atmosferico dall'inquinamento del fumo dallo smog dalla contaminazione ambientale legata alle rete wifi dai campi magnetici oppure dal dal cibo inquinato e dai pesi che ci portiamo per le preoccupazioni quindi inquinamento mentale diciamo per le preoccupazioni e l'inquinamento ambientale voglio fare una meditazione con voi che usando attivando l'argilla pensando che noi siamo argilla e quindi noi la possiamo tranquillamente attivare perché noi siamo noi abbiamo lo stesso potere dell'argilla ecco ricollegandoci alla terra ricollegandoci al potere della terra che assorbe che assorbe questo questo inquinamento dei campi magnetici della che assorbe le preoccupazioni ecco con questo spirito facciamo questa meditazione ecco era era doveroso fare una premessa sull'atteggiamento da utilizzare per fare la meditazione e ho diviso il video in due parti in modo tale che possiate partire subito con la meditazione se volete saltare la premessa e l'intenzione l'atteggiamento con cui si fanno con cui faccio le meditazioni ciao ciao